La strada per la salvezza del Cesena in Serie B è ormai tracciata, ma intanto la società del presidente Giorgio Lugaresi sta continuando a lavorare allacremente per assicurarsi un futuro anche fuori dal campo. Ragion per cui la settimana scorsa il club di Corso Sozzi ha provveduto a depositare presso il Tribunale di Forlì un ricorso in base al comma 6 dell'articolo 182 bis della legge fallimentare, che dovrebbe prevenire un'eventuale messa in mora per permettere un accordo di ristrutturazione del debito con i creditori sociali. Il secondo fronte su cui si sta muovendo il Cesena riguarda il raggiungimento di un accordo con l'erario per rateizzare e ridurre il debito fiscale, una quota di ben 33 milioni su quello complessivo di 52. Nella speranza di completare anche questo passaggio, il club bianconero potrà poi concentrarsi sulla scadenza imperativa del 30 giugno, che segna il termine ultimo per perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Cremonese ed eventuali play-out permettendo sia ben chiaro, perché la sopravvivenza del Cesena non potrà prescindere dal conseguimento della salvezza sul campo.